Salut les gars! Oggi siamo qui per reagire insieme al trailer della sesta stagione di Scam France. Sono molto emozionata perché questa, come sappiamo tutti, è l'ultima stagione e non so bene cosa aspettarmi. Ho evitato gli spoiler sul trailer, ho evitato gli spoiler sulla stagione, non ho voluto sapere niente nonostante ci siano stati vari spoiler in giro. So che molti di voi sapranno questa situazione che c'è stata negli ultimi giorni, negli ultimi settimane, che è stata veramente una mancanza di rispetto verso tutto il cast e tutte le persone che ci stanno dietro, quindi tutta la crew, tutti i realizzatori, veramente tutto lo staff che c'è dietro Scam France. Detto questo, passiamo a guardare insieme il trailer. Io da stamattina che sto cercando di mantenere la calma perché non sono pronta. Ok, prima di iniziare, intro! Calido paesaggio di sfondo, come è sempre bellissimo, queste panoramiche. Ed ecco Lola, attenzione! Ecco, Jugging era da finire, perfetto. No, no, aspettate, aspettate, io sto già piangendo. Che cosa è successo? Potete partire con la bomba così a mille. Ma di che stiamo parlando, oddio? Ok, ok. Devo calmarmi, ok? Ci sono, ci sono. È questo? Beh, il 18 aprile sarà una batosta, ragazzi. Oh mio Dio, cioè, sono partiti proprio con... No, raga, no! No! Ci hanno droppato la bomba proprio così! Subito! Subito! Ho capito... Cioè, voi dovete avere pazienza però, questa è l'ultima stagione. Noi già stiamo muotendo dentro! Davide! Abbi pietà! Io non ce la posso far fare così. Comunque, wow, wow. Flavie ha già il mio cuore. Già conquistato. Super emozionante, si vede che era nella parte preparata, brava. Vabbè, Lula ovviamente nella parte di Daphne è super emotiva. L'amo come sempre. Mamma mia, ho ancora un vuoto nello stomaco, c'è proprio come un pugno in pancia. È stato assurdo, assurdo. Cioè, dura un minuto il trailer, un minuto e qualcosa e... Adesso già a pezzi. Oddio! Bene! Se partiamo così dal trailer, immagino la stagione che Perle ci regalerà. Mamma mia, ragazze, non sono pronta. Per niente, per niente. Cioè, sono da una parte emozionatissima e dall'altra, tipo... No. No. Uno, perché non può finire. Due, perché ho paura, seriamente, se questo è solo il trailer, ho paura della stagione intera. Cosa sarà? No. No. Ok? No. L'ho detta abbastanza fatta per farvi capire il mio mood di questo momento. Bene. Allora, detto questo... Wow. Sono molto soddisfatta di questo trailer, complimenti. Ci avete dato proprio emozioni a mille. e non vedo l'ora di vedere quello che verrà. Ok. Noi ci vediamo alla reaction del primo episodio. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Ok. E niente. Ci vediamo nel prossimo video. Bisù!